Per un cibo è il tuo corpo E bevano il sangue giù Se mangiamo questo pane Sempre in noi dimorerai Tu sei il pane degli angeli Cibo d'immortalità Tu sei il pane dell'amore Sacramento di pietà Ma che sei disceso a noi dal cielo Pane che ha in sé ogni dolcezza Pane della vita Anche nel torno di noi Saremo uniti per l'eternità Danci sempre questo pane Danci sempre questo pane Pane che dai vita al mondo Dona forza e santità Ci sostieni nel cammino Ti adoriamo in verità Oh Signore non siamo degni Di venire alla tua pensa Di soltanto una parola La salvezza ci dà dai Pane che ha in sé ogni dolcezza Pane della vita Buonasera carissimi Ben ritrovati Forse state ancora cenando Avete appena finito Forse qualcuno di voi Ha concluso la sua giornata lavorativa E' tornato a casa Ecco oggi pomeriggio Mentre preparavo Il programma di questa Settimana Santa Mi è venuta in mente Un'idea Perché non passare un po' di tempo Con chi lo desidera Nell'affrontare quelli che possono essere I riti della Settimana Santa Quindi come avete potuto ben capire Questa sera Ecco Affronteremo un pochettino La liturgia del Giovedì Santo E' un trido pasquale Che vivremo in maniera un po' particolare Perché? Perché siamo nelle nostre case Quindi non abbiamo la possibilità Di partecipare alla Santa Messa In maniera corporea Quindi ci affidiamo soltanto Ai mezzi di comunicazione Alcune cose non riusciremo a fare Anche nella Messa del Giovedì Santo Però ecco Volevo questa sera Spiegarvi E addentrarci maggiormente In quello che viviamo Come centro della nostra vita cristiana Sappiamo che il trido pasquale Quindi la passione Morte e risurrezione di Gesù Fonda la nostra vita di credenti Quindi questa sera Cercheremo un pochettino Di vedere il Giovedì Santo Domani sera Vedremo invece La liturgia del Venerdì Santo Mercoledì sera Invece vivremo E vedremo Cioè vedremo In maniera più approfondita La liturgia della 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 Veglia di Pasqua Va bene Quindi Ecco giusto qualche altro secondino E iniziamo un pochettino Il nostro stare insieme Questa sera E non ci vuoi il tuo corpo E bevando il sangue tuo Se mangiamo questo pane Sempre in noi dimorerai Questo è un canto che Il canto che stiamo ascoltando E' Vero cibo è il tuo corpo Vero cibo è il tuo corpo E bevanda il sangue tuo Se mangiamo questo pane Sempre in noi dimorerai Tu sei il pane degli angeli Cibo di mortalità Tu sei il pane dell'amore Sacramento di pietà E sei disceso a noi dolce Pane che è in sé ogni dolcezza Pane nella vita Che nel tuo e noi E saremo uniti per l'eternità Darci sempre questo pane Darci sempre questo pane Bene, ecco qui Allora, come dicevo all'inizio, questa sera inizieremo i nostri tre incontri serali Sempre alle ore 21 E parleremo un po' del triduo pasquale Quindi del giovedì santo, venerdì santo e sabato santo Allora, questa sera, come avete potuto vedere da questo calice E dalla pagnottina di pane che è sotto Parleremo della liturgia del giovedì santo Tutti quanti noi sappiamo che il tempo della quaresima Quando è che si conclude? Vediamo un po' se qualcuno vuole rispondere a questa domanda Cerchiamo di interagire, va bene? Avete la possibilità di rispondere, di scrivere Allora, quando finisce il tempo della quaresima? Vediamo un po' se qualcuno è coraggioso da rispondere a questa domanda Vediamo un po' Senza che andate a cercare su internet, va bene? Quando finisce il tempo della quaresima? Vi devo svelare io allora tutti questi segreti? Bene, allora il tempo della quaresima si conclude con l'inizio della messa in cena domini La messa del giovedì santo Va bene, tanto è vero Se oggi avete partecipato alla messa del Papa Il Papa ha celebrato la messa in viola Colore caratteristico del tempo della quaresima Quindi allora lunedì, martedì, mercoledì santo Stiamo ancora nel tempo della quaresima Mentre quando noi celebriamo anche il giovedì mattina Stiamo ancora nel tempo della quaresima Quando noi celebriamo la messa della sera del giovedì La messa in cena domini Noi celebriamo, iniziamo a celebrare il trido pasquale Quindi si può dire che il tempo di quaresima è concluso Ora, quando noi entriamo in chiesa Ricordiamoci, quando l'anno scorso siamo andati in chiesa al giovedì santo Noi abbiamo trovato qualcosa di particolare Perché la prima cosa che si fa quando si entra in chiesa Ovviamente, cos'è? Bene, quando noi entriamo in chiesa Ci facciamo il segno della croce E guardiamo chi? Ovviamente non al crocifisso Ma andiamo a guardare a un'altra cosa Io faccio sempre questo esempio Allora io vado a trovare mia nonna Mia nonna su un accampanello Nonna mi apre il portone Io salgo le scale Mi accoglie all'uscio di casa Cosa faccio io? Benissimo Saluto mia nonna Io do un abbraccio Oppure vado a dare il bacetto Al ritratto di mia nonna Che sta sopra il divano In sala Non vado a dare il bacetto Al ritratto di mia nonna Ma saluto mia nonna in carne rossa Ciò vuol dire che quando noi entriamo in chiesa Il nostro sguardo Il nostro amore Il nostro saluto Lo rivolgiamo a Gesù e Eucaristia C'è quella porticina Il tabernacolo Dove vicino c'è una candela accesa Se noi andiamo Dentro la chiesa E andiamo Il giovedì santo Ci rendiamo conto Che la porta del tabernacolo È aperta Dentro è vuoto Non c'è niente E il lumino vicino Che prima era sempre acceso Invece è spento Perché non c'è Gesù e Eucaristia Al di dentro della chiesa Quindi il tabernacolo è vuoto Perché questo? Perché il giorno del giovedì santo Viene istituita Noi facciamo Ricordiamo il momento in cui Nel quale è stata istituita L'Eucaristia Ok? Quindi non soltanto l'Eucaristia Ma anche l'ordine sacro Cioè i sacerdoti Come me prete Che celebro la messa E quindi posso Per grazia di Dio Celebrare i divini misteri E noi quando andiamo A fare la comunione Riceviamo il corpo E il sangue di Gesù Fondamentalmente Allora Gesù nel giovedì santo Ha istituito nel cenacolo L'ultima cena Facendo l'ultima cena Ha istituito l'Eucaristia Allora Perché non troviamo L'Eucaristia nel tabernacolo? Perché Gesù In quel momento Quando noi diciamo Prendete Mangiatene tutti Questo il mio corpo Prendete Bevenete tutti Questo il mio sangue Il Signore Che si dona in quel momento Le osti Che stanno nel tabernacolo Sono Solo e soltanto Per Gli ammalati Cioè Si chiama Si dice La riserva Eucaristica Le osti Che stanno lì dentro Per il pronto intervento Cioè Se io prete Devo portare La comunione A un ammalato Ovviamente Posso prendere Le osti Dal tabernacolo E portarle A un ammalato Per fargli fare La comunione Ecco perché Sarebbe buono Che a ogni celebrazione Della messa Il sacerdote Possa consacrare Le osti Quelle piccoline Per poi Distribuirle Ai fedeli Che hanno partecipato Alla santa messa In quel momento Non è sempre necessario Andare a riprendere La piscide Quel contenitore Dentro il tabernacolo Dove già ci sono Le osti consacrate Va bene Quindi allora Per far comprendere L'importanza Della istituzione Dell'Eucaristia E quel Prendete e mangiate Ne tutti Prendete e bevete Ne tutti Che si Concretizza Ogni volta Che noi celebriamo La messa Ma soprattutto Il giovedì santo Ne facciamo memoria Ok Allora il tabernacolo È vuoto Va bene Sacerdote Entra In chiesa Con il canto Per celebrare La santa messa C'è il segno Della croce C'è il saluto Che il sacerdote fa C'è l'atto penitenziale Come sappiamo In ogni celebrazione Cosa strana E cosa bella Dall'altra parte È che si canta Il gloria Per le persone Che hanno Un po' più di età Voi Sicuramente Ricorderete Che al canto Del gloria Si diceva Che si Anodano Le campane Tant'è vero Adesso è rimasto Nella nostra Liturgia del giovedì santo Ricordatevi l'anno scorso Quando noi abbiamo Cantato il gloria C'erano i chierichetti O qualcuno Che ha suonato Le campane Dentro la chiesa E più il campanile Ha suonato A festa Quelle campane Non suoneranno Più Fino Alla notte Di Pasqua Quando Ricanteremo Di nuovo Il gloria Si legano Le campane E nella notte Di Pasqua Si sciolgono Le campane Perché sapete Molto bene Che una volta Le campane Si suonavano A mano E c'erano le funi Ecco perché Si parla di legare E di sciogliere Le funi Venivano legate In modo tale Che nessuno Poteva suonare Le campane Ecco allora L'inno del gloria È un inno Molto antico E antichissimo E certe volte Quando lo recitiamo Non ci mettiamo Tanta attenzione Perché L'inno del gloria È diviso In due parti Quindi si dà lode A Dio Padre E si dà lode A Gesù Cristo Prendo un attimo Il gloria Il testo Noi diciamo Gloria a Dio Nell'alto dei cieli E pace in terra Agli uomini Di buona volontà Qui c'è un punto Ok E quindi noi diamo Gloria a Dio Poi diciamo Noi ti lodiamo Ti benediciamo Ti adoriamo Ti glorifichiamo Ti rendiamo grazie Per la tua gloria immensa Signore Dio Re del cielo Dio Padre Onnipotente Punto Cioè Queste due strofe Stanno a inneggiare La gloria Di Dio Padre Noi diamo Lode a Dio Padre Poi dopo Ci sono altre due strofe Che riguardano Gesù Signore Figlio unigenito Gesù Cristo Signore Dio Agnello di Dio Figlio del Padre Tu che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi Tu che togli i peccati del mondo Accogli la nostra supplica Tu che siedi alla destra del Padre Abbi pietà di noi Punto Certe volte Se voi ci andate a riflettere bene Prendete questo testo Con più calma E vi rendete conto Che La seconda strofa Di Dio Padre Noi la colleghiamo Subito a quella Che è la terza strofa Che è rivolta a Gesù Cristo Senza invece scindere E Ve lo dico in maniera Un po' più chiara Quando noi diciamo Signore Dio Re del Cielo Dio Padre Onipotente Signore Figlio unigenito Gesù Cristo Sembra che è tutto attaccato Invece no Dobbiamo dare il giusto distacco Perché sono cose differenti Fateci molto caso Perché spesse volte è così Io lo sento In maniera automatica Che si va dritto Senza porre Uno stacco L'ultima strofa Di questo inno Del Gloria Dice Perché tu Solo il Santo Riferito a Gesù Tu solo il Signore Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo Con lo Spirito Santo Nella gloria Di Dio Padre Ok Bene Allora pensiamo Al giovedì santo A questa grande gioia Il Gloria Non l'abbiamo cantato più Per tutta la Quaresima E quindi Lo cantiamo Al giovedì santo È un inno di festa Noi un inno di festa Che è riferito Una lode Che è Riverita al Padre E al Figlio Perché c'è questo Grande dono Dell'istituzione Dell'Eucarestia Poi dopo Poi c'è la famosa Colletta Cioè la preghiera Che il sacerdote fa Quando dice Preghiamo Il sacerdote fa Una piccola pausa Di silenzio E poi Rivolge Una preghiera Ora Perché questa preghiera È chiamata Colletta Quando noi diciamo Facciamo una colletta Cosa significa? Quello che tu c'hai Metti qua Che serve Per Se noi per esempio Andiamo a vedere Nel domo di Fire Di Ravenna Sono Nero C'è proprio Un mosaico Dove è raffigurato Un sacerdote Che ha Un abito Per dire La messa Chiamata Casula Dove ci sono Attaccate Tante api Perché? Perché il sacerdote Cosa fa? Lui raccoglie Tutte le preghiere Dei fedeli E le presenta Al padre Quindi questa colletta Sarebbe La raccolta Di tutte le preghiere Che noi Noi fedeli Portiamo Alla messa Ok? Ecco perché c'è molta Partecipazione Consapevole Dei fedeli Alla santa messa Quindi il prete Dice Preghiamo Tutti quanti noi Abbiamo la possibilità Quindi il signore Ti offro questa preghiera Che abbiamo pensato Però Prima della messa Ovviamente Che cosa gli vogliamo Chiedere al signore Che cosa gli vogliamo Affidare Eccetera Eccetera Quando il prete Dice preghiamo Noi abbiamo la possibilità Appunto Di Di donare La nostra preghiera Il prete Quindi come se le raccogliesse E poi dopo Le offre A Dio padre Per mezzo Di Gesù Cristo E fa quindi Appunto Questa preghiera Che è chiamata Colletta Dopodiché Ci si siede Ok Tutti quanti Si siedono I lettori Cominciano invece Ad andare Verso l'ambone Luogo dove si proclama La parola di Dio Quindi ascoltiamo Una prima lettura Ascoltiamo Un Vangelo Uno scusate Un salmo responsoriale Una seconda lettura Abbiamo L'acclamazione Al Vangelo Che ancora Lode a Teo Cristo Redi eterna gloria Perché ripeto Ancora non entriamo Nella Pasqua E quindi Pertanto Non possiamo Recitare L'Alleluia E dopo Ascoltiamo La pagina Del Vangelo Ecco Cosa molto Particolare Del Giovedì Santo Che la pagina Del Vangelo Ci dice Della lavanda Dei piedi Ed è L'istituzione Di questo Comandamento Nuovo Fondamentalmente Ecco perché Il Giovedì Santo È caratterizzato Non soltanto Dall'istituzione Dell'Eucaristia Ma anche Soprattutto Da Questo Comandamento Dell'amore Che dobbiamo Cercare di vivere L'universo E gli altri Va bene Quindi allora Queste letture Che vengono Proclamate Danno la possibilità Al sacerdote Durante l'Omelia Durante la predica Appunto Di Fissare bene Alcuni punti Ecco che L'istituzione Della Delle Eucaristia Quel Prendete E mangiate Nei tutti Quel Prendete E bevete Nei tutti Noi Non lo ascoltiamo Nel Vangelo Ma lo ascoltiamo Nella seconda lettura Tratta solitamente Della prima Corinzi Se non ricordo male Va bene Dopo questo momento Di proclamazione Quindi di ascolto Della voce Di Dio E il sacerdote Ci aiuta A interiorizzare Meglio Con l'Omelia Quello che Dio Ci vuole regalare In quella Con quella liturgia Della parola La liturgia Ci dà La possibilità Che è facoltativa Non è obbligatoria È facoltativa Della lavanda Dei piedi In effetti Qui il messale Questo libro rosso Dove è contenuta Tutta la celebrazione Dice Dove i motivi pastorali Lo consigliano Dopo l'Omelia Ha luogo La lavanda Dei piedi Quest'anno Ovviamente Le disposizioni Che ci sono state date Dalla Dalla congregazione Del culto Per la disciplina Dei sacramenti Ci è stato detto Che la lavanda Dei piedi Viene omessa Perché ovviamente Non abbiamo Concorso di popolo E quindi pertanto Non possiamo compiere Questo gesto Ed è emblematico Perché il sacerdote Cosa fa? Si toglie Solitamente la casula Quindi rimane Con la stola Perché sotto I sacerdoti Vestono la stola La stola È il segno Del sacerdozio Ecco perché Sempre nel clima Del giovedì santo La mattina Del giovedì Si celebra La messa Si dice Crismale La messa Dove si Benedicono Gli oli Dei catecumini L'olio Degli infermi Si consacra Il crisma È una Santa messa Che si celebra Il giovedì Appunto per Ricordare L'istituzione Dell'ordine sacro Quindi si può Celebrare L'eucaristia Il Signore Gesù Ha scelto Di essere presente Ancora in mezzo A noi Nell'eucaristia Ma ha avuto Bisogno di chi? Ha avuto Bisogno di Uomini Ecco Che diventassero Sacerdoti Ministri Per poter Essere Lui Presente In mezzo Al suo popolo Ok Allora ecco perché La messa Crismale Nasce come Messa del Vescovo Con tutti i preti Perché i preti All'interno di questa Messa Crismale Rinnovano le loro Promesse Sacerdotali Rinnovano Il loro Sacerdotio A questa messa Ovviamente sono Invitati A partecipare Anche i fedeli Però Fondamentalmente Ecco Il segno Evidente È della Comunione Del Vesto Con i suoi Preti Con i suoi Sacerdoti Con i presbiteri Va bene Ora Ecco appunto perché Il sacerdote Veste Questa stola Sotto la casola Che noi non vediamo Mai Perché quando Vediamo il predi Della messa Lo vediamo Con il bell'abito Là sopra Tutto colorato Ma sotto C'è Un altro Pezzo Di stoffa Che è proprio Il segno Del sacerdote Ministro Mentre il diacono La porta Laterale Il prete La porta Per diritto Quindi allora Quando il prete Si toglie la casola Nel Giovedì Santo Cosa succede Che noi riusciamo A A vedere Questa stola Il prete Si mette un crembiule Prende L'asciugamano Come ha fatto il signore Si era cinto E messo il crembiule Eccetera Eccetera E comincia A lavare i piedi Ai discepoli L'ha fatto il signore E il presbitero Lo fa A dodici persone Che stanno a ricordare I dodici apostoli Cosa molto bella Significativa Per la lavanda dei piedi Secondo me Non è tanto Mettere questi Dodici prescelti Tutti quelli schierati Capito Così Un po' come si sentissero Anche a disagio Di una parte Sembrano i condannati Quelli che No E' bello Che queste persone Che Sono state scelte Per la lavanda dei piedi Si mettano Nei banchi Della chiesa Ed è bello Perché la chiesa Ha un curitoio centrale E quindi Se queste persone Si mettessero Ai banchi In maniera esterna Che danno sul Curitore centrale Il sacerdote può passare Se da un lato Se dall'altro A lavare i piedi A queste persone Come a dire Che anche Il sacerdote Che rappresenta Gesù Si mette al servizio Della comunità Intera E' un bellissimo gesto Da poter Rivivere L'anno prossimo E casomai Anche Proporlo Consigliarlo Ai nostri parroci Nel momento in cui Uno solitamente Fa Un altro modo Ecco Dopo questo Gesto Bellissimo Della lavanda dei piedi Il sacerdote Riprende Il suo abito Liturgico La casula Si dirige Alla sede Dove Fa Da inizio Alla preghiera Dei fedeli Ora la preghiera Dei fedeli E siamo noi fedeli Che eleviamo Le nostre intercessioni A Dio Gli chiamo Di ascoltarci Dopo la preghiera Dei fedeli Arriva il momento Dell'offertorio E qui La liturgia Del giovedì santo Ci dà La possibilità Di cantare L'ubicaritas Dove carità E amore Lì Lice Dio Perché Si dice In maniera esatta Che nella liturgia Eucaristica In questa processione Fortuniale È bene Che i fedeli Portino All'altare Le offerte Cioè Il pane E il vino E l'acqua Ma si dice Anche Doni per i poveri Perché appunto Quel comandamento Di Gesù Di vivere L'amore fraterno Amatevi Gli uni gli altri Come io Amato voi Quando i discepoli Gli dicono Avete capito Cosa vi ho fatto Come ho fatto io Così fate anche voi Lavatevi i piedi Gli uni gli altri Quindi andare Verso le persone Che hanno bisogno Che hanno necessità I poveri I sofferenti Pensare anche A chi non ha Ecco Nel giovedì santo Si concretizza In maniera Particolare Perché si dice Ecco Portate dei doni Dei cesti Di vivere Anche per i poveri E capite bene Che nella processione Fertoriale A proparentesi Anche la chiudo Capite molto bene Che quando si portano I doni All'altare Non si porta La Bibbia Non si portano I sandali Non si porta Un mappamondo Non si porta Un pallone Perché? Perché ciò Che io do Il Signore Me lo ridà In maniera diversa Quindi io porto Il pane E il vino E l'acqua Che il sacerdote Usa per la messa Per chi diventano Per me Corpo E sangue Di Cristo Corpo di Cristo E il sangue Di Cristo Infatti L'ordinamento Generale Del messaggio Romano Questo piccolo Librettino Che sarebbe Bello Poter leggere Che ci dice Anche la teologia Cioè ci spiega In maniera Precisa anche Il perché Delle cose Perché certe volte Noi facciamo In maniera Molta automatica Dice Ebbene Che la partecipazione Dei fedeli Si manifesti Con l'offerta Del pane E del vino Per la celebrazione Dell'eucaristia Sia di altri doni Per Attenzione Doni Per Le necessità Della chiesa E dei poveri In maniera Molto Come posso dire In maniera Un po' così Non mi viene il termine Perché Passa il cestino Delle offerte Quel cestino Dove si mettono I soldi Perché Tutto il ricavato Che si prende Dalla comunità E per le esigenze Della chiesa Per le necessità Della chiesa Quindi Con quei soldi Che si raccolgono Con il cestino Che vanno a finire Poi nel fondocasso Della parrocchia Ci si paga Tutto quello Di cui c'è necessità Ci si compra Ostie Per la messa Il vino L'olio Per le candele Si pagano le bollette Si aiutano i poveri Ok Quindi Ecco perché Io offro Lo faccio ad ogni messa Quello che io posso Offro la mia lode La mia preghiera Offro anche del mio Cioè Anche la pecunia O anche il soldino Per le necessità Della chiesa E per i poveri Non vado a offrire Un pallone Che necessità La chiesa può avere Di un pallone Cioè Si possono giocare I bambini Però Questo pallone Certe volte Viene presentato Offerto a Dio Non so con quale spirito Tipo la Bibbia Cioè io vado a offrire A Dio la Bibbia Ma se la Bibbia È parola sua Che gli vado a dare Quello che mi ha dato Già lui Cioè Bisogna dare Un po' Il giusto senso Anche A quello Che noi facciamo Quindi Nel giovedì santo Si esplicita In maniera Molto chiara Tu porti all'altare I doni Che servono Appunto Per la liturgia Eucaristica Si raccolgono soldi Per necessità Della chiesa E per necessità Ovviamente Di tutti E si raccolgono Vivere anche Per i poveri Per simboleggiare In maniera Molto più Marcata Quello che è L'amore Verso il prossimo Lavatevi i piedi Gli uni gli altri Amatevi Gli uni gli altri Come io ho avuto voi Io vi ho dato L'esempio Dice il Signore Va bene Quindi Fatta la liturgia Fatta questa Processione Offertoriale Il sacerdote Poi continua La celebrazione E quindi C'è la preghiera Sulle offerte Quindi c'è Un'orazione Che il sacerdote Il sacerdote fa Concedi a noi I tuoi fedeli Signore Di partecipare Degnamente Ai santi misteri Perché ogni volta Che celebriamo Questo memoriale Del sacrificio Del Signore Si compie l'opera Della nostra redenzione Per Cristo Nostro Signore Amen Allora Un altro appunto Che mi sento anche Di consigliarvi E di Sul quale poter riflettere Fateci caso Che il sacerdote Una volta che ha preparato I doni sull'altare Quindi ha sistemato Il pane Il vino Eccetera Eccetera Noi potremmo guardare Quello che il sacerdote Utilizza Pensiamo a Papa Francesco Anche quando celebra La Messa Dice ma perché la Chiesa Ha tutti questi calici D'oro C'è la gente Che muore di fame E la Chiesa Ha le cose in oro I candelieri in oro Eccetera 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 Settimana Santa Nel brano del Vangelo Capitolo 12 Del Vangelo di Giovanni Versetti 1-11 Si racconta Della Dell'ospitalità Che Gesù ha ricevuto A casa Betania Lazzaro è risorto Dalla morte Marta Che era la sorella Comincia a preparare A mangiare Maria cosa fa Prende 300 grammi Di profumo Di puro nardo Prende sto profumo E li butta Sui piedi di Gesù E gli lasciuga Con i suoi capelli Quelli che io Fondamentalmente Non ho Giude Scariota Dice Ma perché Questo Tutto questo Spreco Questo costo Sto profumo Perché non si è messo Da parte Per i poveri A Giude Dice il Vangelo Non gli interessava Proprio i poveri Lui teneva la cassa Allora Gesù dice Lasciate fare A Maria Quello che sta a fare Perché i poveri Li avete sempre con voi Me Non mi avete sempre Quindi allora La Chiesa Memore Di questo Di questo Parlare Di Gesù Quando celebra La Messa Che È l'atto celebrativo Massimo Dove noi Incontriamo Il Signore Il Signore Lo riceviamo Nella comunione Entra dentro di noi Capite Quello che avviene Cioè in maniera Proprio È come se noi Toccassimo il cielo Con un dito E sentiamo maggiormente La mancanza Di non poter Fare la comunione Sentiamo l'importanza Di unirci al Signore Allora la Chiesa Ha tutto quello Che di bello Può offrire Al Signore Perché Lui È il prezioso Allora Quel calice Che è in oro Contiene Il sangue Di Cristo E un bene Più prezioso Non è il calice Ciò che è contenuto È il sangue Di Cristo Quella piscide Quel contenitore Che sta dentro Al tabernacolo Dove ci sono Le ostie consacrate Quello è il corpo Di Gesù Cioè quello Non è un pezzo Di pane e basta È Gesù stesso Allora noi memory Ripeto Di questo Di quello Che Gesù Ha detto A Maria Ha detto Anche agli astanti E ha lasciato Maria che continuasse La sua opera Noi offriamo Al Signore Le cose più belle Ma questo fondamentalmente Succede anche quando Noi abbiamo Un ospite in casa Quando noi abbiamo Un ospite in casa E sappiamo che Piene una persona Da noi a cena O a pranzo Ricacciamo il servizio Migliore Ma non perché Ci vogliamo fare Buona figura Ma perché Vogliamo Che questa persona Ecco venga accolta Con tutte le Dovute Attenzioni E il segno Del nostro affetto Per questa persona Che viene In casa nostra Ok Quindi questo Mi sentivo anche Di dirlo Perché dopo Certe volte Parliamo Si potrebbe Cadere pure In certi discorsi Così Che trovano Un po' Quel tempo Che trovano Senza sapere Fondamentalmente Il perché Noi facciamo Tutto questo Come la tovaglia Dell'altare La tovaglia Dell'altare Pulitissima Che noi mangiamo Quelle tovaglie sporche Quando noi Celebriamo la messa Purificatoio Mamutergio Quello che noi Utilizziamo Il sacerdote usa I lini che il sacerdote usa Sono tutti puliti Perché Si accoglie il signore E lui Il santo E lui il benedetto Colui che viene Colui che ci dà La benedizione Dall'alto Eccetera Eccetera Va bene Quando quindi il sacerdote Ha finito a preparare Tutta sta roba qua Cosa dice Pregate Fratelli e sorelle Perché il mio E il vostro Sacrificio Si è gradito A Dio Padre Onnipotente Attenzione Quando ci si alza Perché noi Stiamo seduti Mentre il prete Prepara Sull'altare Quando ci si alza Ci si alza Adesso Quando il sacerdote Ci invita Alla preghiera Pregate Fratelli e sorelle Perché il mio E il vostro Sacrificio Si è gradito A Dio Padre Onnipotente Perché l'atteggiamento Di colui che prega È colui Che sta in piedi Colui che sta in piedi Prega Allora il sacerdote Ci invita Alla preghiera E noi ci alziamo Ecco perché Poi il sacerdote Allarga le braccia Dice una preghiera E noi rispondiamo Per Cristo nostro Signore E noi rispondiamo Amen Poi il sacerdote Dice Il Signore Sia con voi E con il tuo spirito In alto I nostri cuori Sono rivolti Al Signore Prendiamo grazie Al Signore Nostro Dio Cioè il prete Cosa fa? Introduce Introduce Il prefazio Capite? Quindi allora Non è che il prete Dice In alto I vostri sederi Dice In alto I vostri cuori Perché Noi dobbiamo Fare un salto Di qualità Allora Ricapitolando Una volta Che il sacerdote Prepara sull'altare Il pane Il vino Apparecchiato Quando dice Pregate Fratelli e sorelle Noi ci alziamo Subito in piedi Perché? Perché dobbiamo Metterci nell'atteggiamento Della preghiera Qual è l'atteggiamento Di colui che prega? È quello che sta in piedi E noi ci mettiamo in piedi Va bene? Tant'è vero Se ci fate caso Quando c'è una messa Solenne Che si usa L'incenso Il sacerdote Incensa l'altare Dopodiché Viene incensato Il prete E viene incensata Anche la gente Quando la gente Viene incensata La gente Sta In piedi Si deve alzare E rimane in piedi Per tutto il tempo Non si siede Rimane in piedi Perché? Perché appunto Dopo c'è L'invito Del sacerdote Alla preghiera Pregate Fratelli e sorelle Eccetera Eccetera Ok? Fatta quindi L'orazione Sulle offerte Il sacerdote Va avanti Nella santa messa E cosa fa? Inizia La preghiera Eucaristica E la preghiera Eucaristica Inizia Con il prefazio Il signore Sia con voi E con il tuo Spino In alto I vostri cuori Sono rivolte Il signore Rendiamo grazie Il signore Nostro Dio Eccetera Eccetera Inizia qui La preghiera Eucaristica E finisce Quando? Vediamo un po' Se qualcuno risponde Quando finisce La preghiera Eucaristica? Vediamo un po' Se qualcuno So che Qua è tutto Lento Io non è che Ci capisci tanto Questa tecnologia Io Per chi mi conosce In questi giorni Sto superando Me stesso Fondamentalmente Quindi Credo che voi Mi riceviate Con un po' Di ritardo Oppure Io ricevo Con un po' Di ritardo Dei vostri Iscritti Non lo so Però Vi do un attimo Di tempo Allora Quando è che Finisce La preghiera Eucaristica Eucaristica Vediamo un po' La preghiera Eucaristica Abbiamo detto Che inizia Con il prefazio Il Signore Sia con voi Eccetera Eccetera In altri Nostri cuori Eccetera Eccetera E quando Finisce E' bravo Padre Giuseppe Rinaldi Beh Padre Giuseppe Un saluto caro Padre Giuseppe Da Napoli Bene Bene Padre Giuseppe Ci dice Al per Cristo Con Cristo E in Cristo Cioè Alla dossologia Cioè Ciò vuol dire Prima del Padre Nostro Ok Allora Quindi La preghiera Eucaristica E' la grande Preghiera Che ci dà La possibilità Di far sì Che Gesù Stia in mezzo A noi Cioè Che quel pane E quel vino Diventano Il corpo E il sangue Di Cristo E poi C'è Tutta Il continuo Della preghiera Una preghiera Sempre Rivolta Al Padre Che si conclude Dopo Dove Noi facciamo Anche memoria Ecco Preghiamo Per la Chiesa Ci sono le varie intercessioni Preghiamo Per la Chiesa Preghiamo Per i vivi Preghiamo Per i defunti In quella comunione Dei santi Della Gerusalemme Del cielo Eccetera Eccetera E si conclude Col per Cristo Con Cristo E in Cristo A te Dio Padre Padre Onnipotente Dell'unità Dello Spirito Santo Ogni Onore Glorie Per tutti i secoli Dei secoli Amen E qui finisce La preghiera Eucaristica Poi dopo Iniziano I riti Di Comunione E iniziano Questi riti Di comunione Con La recita Del Padre Nostro Perché Il Padre Nostro Che noi Recidiamo Al Rosario Lo concludiamo Con l'Amen Mentre Il Padre Nostro Che diciamo Alla Messa No Padre Giuseppe Non rispondere Stavolta Vediamo Un po' Qualcuno Si azzarda A dire qualcosa Ecco Cristian Fa il sincero E dice Ni sacci In pratica O forse Non hai capito La domanda O hai perso Forse La domanda Più che Non capito Perché La connessione Non sempre È Lineare Per tutti Quindi allora Durante la Messa Noi Recitiamo Il Padre Nostro Ma Non lo Concludiamo Con L'Amen Perché Perché Nella Messa La preghiera Che viene Subito Dopo Il Padre Nostro È Un Embolismo Si chiama Cioè È Come se Fosse Un Continuo Della preghiera Del Padre Nostro Perché Dice Padre Nostro Noi che cosa Diciamo Alla fine Liberaci Dal male E al posto Di dire Amen Sacerdote Continua Ancora E dice Liberaci O Signore Da tutti I mali Concedi La pace Ai nostri Giorni E con L'aiuto Della tua Misericordia Vivremo Sempre Liberi Dal peccato E sicuri Da ogni Turbamento Nell'attesa Che si compia La beata Speranza E venga Il nostro Salvatore Gesù Cristo Va bene? Quindi allora Non si dice Amen Perché la preghiera Del Padre Nostro Non è Conclusa Ma è come Se Ma continua In questa preghiera Chiamata Embolismo Che Snossola E aggiunge Qualcosa In più Della preghiera Del Padre Nostro Ok Quindi la preghiera Del Padre Nostro È la preghiera Che il Signore Gesù Ci ha insegnato L'unica preghiera Che Gesù Ci ha dato Quando i discepoli Gli chiedevano Ma ci insegni a pregare Come dobbiamo fare? Perché Ogni persona Diciamo Leader Religioso Aveva un suo seguito Quindi c'erano Discepoli di Tizio Discepoli di Caio Discepoli di Sembronio Ognuno aveva una caratteristica Allora E dicono a Gesù Ma tu Insegnaci a pregare Qual è Diciamo La tua caratteristica Bene Fondamentalmente Vi è detto Quando voi pregate Dite Padre Nostro E ci ha insegnato La preghiera Del Padre Nostro Oltre ad averci fatto Dono Il Signore Di questa preghiera Ci ha fatto anche Il dono Della pace Il Vangelo Di Giovanni Quando il Signore È apparso Dopo la risurrezione Vi do la pace Infatti Viene detto Nella preghiera Che il prete Fa subito dopo Signore Gesù Cristo Che hai detto I tuoi apostoli Vi lascio la pace Vi do la mia pace Non guardare I nostri peccati Ma la fede Della tua chiesa E dona Le unità E pace Secondo La tua volontà Tu che vivi E regni Nei secoli Dei secoli È una preghiera Che si ricorda Il dono Della pace Che il Signore Ci ha dato Ma quella pace Che siamo chiamati Anche noi A scambiarci Oggi purtroppo Non lo possiamo fare Per le norme Della sicurezza Anche Per contrastare Questo coronavirus Però Quando si dice La pace Del Signore Sia con voi Quando noi Ci siamo dati Lo scambio Della pace Non è che Ti auguri Grazie Ciao Cioè io Ti auguro Di avere Nel tuo cuore La pace Di Cristo Non è soltanto Un darsi la mano O un bacetto O un abbraccio Tant'è vero Se vi ricordate Un altro brano Del Vangelo Viene detto Che se tu hai qualcosa Contro il tuo fratello Fermati lì dove stai Prima di presentare I tuoi doni All'altare Ti vai a Riconciliare Con tuo fratello Dopodiché Prendi i tuoi doni E portali All'altare Tant'è vero Nella liturgia Ambrosiana Lo scambio Della pace Viene prima Della liturgia Eucaristica Quindi è come se ci fosse Una riconciliazione Fraterna Ok Prima di presentare La nostra offerta All'altare Perché? Perché le nostre mani Non devono essere Come le mani di Caino Che grondono sangue Per l'uccisione Del fratello Ecco perché la Chiesa Saggiamente All'inizio Di ogni Santa Messa Ci fa fare L'atto penitenziale Cioè riconosciamo I nostri peccati Le nostre fragilità Per mia colpa Mia Non è così Per mia colpa Il pugno Perché È la mia la colpa Non è la colpa È dell'altro È mia Quindi devo Assumervi Le mie responsabilità Allora Fondamentalmente Questo scambio Della pace Che io dono Al mio fratello È che Ti faccio L'augurio Che La pace Del Signore Dimori Nel tuo cuore Nella tua vita Va a finire Che io non ce l'ho Con un fratello Quindi non ho bisogno Di compiere Un gesto di riconciliazione Nei confronti Di una persona Ma ti do La pace Augurandoti proprio Che il Signore Stia con te E ti dia Pace Ecco lo scambio Della pace È fondamentale Pure nella liturgia Eucaristica Nella Santa Messa Non è una cosa Per far cagnara Per far caggara Certe volte Noi copriamo Questo momento Con il canto Alla pace Ma Non dovrebbe esserci Nessun canto Durante lo scambio Della pace Ma ci deve essere Un canto A che cosa? All'agnello Di Dio Quando il sacerdote Prende l'ostia Che ha consacrato E spezza La dovrebbe spezzare Facendola vedere A tutti E noi Mentre il prete La spezza Non dovrebbe essere Il prete A dire Agnello di Dio Ma lo dovrebbero dire I fedeli Perché questo? Vi ricordate Nel Vangelo di Giovanni Al capitolo primo Quando Passa Gesù Giovanni il Battista Teneva i suoi discepoli Cosa dice Indicando Gesù Ecco l'agnello di Dio Ecco colui Che toglie Il peccato Del mondo Noi cosa diciamo Durante l'agnello di Dio Agnello di Dio Che togli I peccati Del mondo Abbi Pietà Di me Di noi Scusate Agnello di Dio Che togli I peccati Del mondo Abbi Pietà Di noi Agnello di Dio Che togli I peccati Del mondo Dona a noi La pace Allora Nel fatto Che il prete Sta spezzando L'ostia Noi facciamo La nostra professione Di fede Cioè noi diciamo Che l'ostia Lì È quell'agnello Di Dio Che toglie I peccati Del mondo Vi ricordate I discepoli Di Emos Altro brano Biblico I discepoli Di Emos Riconobbero Gesù Nello spezzare Il pane Questo viandante Che si è affiancato A loro Durante il cammino Che chiedevano Perché io siete triste Eccetera Eccetera Loro hanno raccontato Ciò che era successo A Gerusalemme Gesù era morto Eccetera Eccetera Vangelo Che ascolteremo Nella Messa Della sera Di Pasqua Ecco Lo riconobbero Nello spezzare Il pane Allora Durante l'agnello Di Dio Che dovrebbe essere Sempre cantato Noi facciamo La nostra professione Di fede Diciamo Agnello di Dio Che toglie I peccati Del mondo Abbi pietà Di noi Io ti riconosco Che tu sei L'agnello di Dio Che porta su di sé Il peccato Del mondo Va bene Ecco Allora Che il sacerdote Poi Se avete visto Fa scendere Un pezzettino Di ostia Spezza un pezzettino Di ostia E la fa calare Nel calice Ok Macello Adesso Spiegare Tutto Il sacerdote Comunque Fa una Prighiera Mentre fa scendere Questo pezzettino Di pane Dice Il corpo E il sangue Di Cristo Uniti In questo calice Siano per noi Cibo Di vita Eterna Perché noi Quando andiamo A ricevere La comunione Spesse volte Riceviamo Solo L'ostia Consacrata Ok Ma Nell'ostia È contenuto Corpo Sangue Anima E divinità Il nostro Signore Gesù Cristo I vari Miracoli Eucaristici Che sono Sorti All'interno Della Chiesa Ci ricordano Appunto Questo La presenza Reale Di Gesù E abbiamo Tutto Gesù In quell'ostia Ci sono le ostie Consacrate In questi Miracoli Eucaristici Che hanno Cominciato A sanguinare Perché Ripeto Questo Mixtion Si dice A livello Tecnico Ecco Sta a ricordare Proprio L'unione Del corpo E sangue Di Cristo Noi andiamo A ricevere L'ostia Tutto Il Signore Il sacerdote Poi Fa una Preghiera Sottovoce Che forse Non l'avete Mai sentita Dice così Prima Di dire Beati Gli invitati Alla cena Del Signore Se ci avete fatto caso I preti Stanno sempre Un po' Inclinati Così Fanno la Genuflessione Poi prendono L'ostia E dicono Beati Gli invitati Alla cena Del Signore Il prete Dice Signore Gesù Cristo Figlio del Dio vivo Che per volontà Del Padre Con l'opera Dello Spirito Santo Morendo Hai dato Alla vita Al mondo Per il santo mistero Del tuo corpo E del tuo sangue Liberami Da ogni colpa E da ogni male Fa che sia sempre Fedele alla tua legge E non sia mai Separato da te Una preparazione Alla comunione Poi il prete Prende l'ostia Tiene la patena Che il vassolietto Così E dice Beati Gli invitati Alla cena Del Signore Ecco L'agnello Di Dio Che toglie I peccati Del mondo Oh Signore Non sono degno Di partecipare Alla tua mensa Ma di soltanto Una parola E Dio Sarò salvato Se vi ricordate C'è un altro episodio Del Vangelo Se non mi ricordo male Del Centurione Che aveva Soprattutto Soprattutto ripeto In questa liturgia Del giovedì santo Che noi stiamo Ripercorrendo Ancora di più Riviene Alla nostra mente Cosa significa Tutto questo Beati Perché il sacerdote È chiamato A presentare Solo l'ostia Il messaggio Lo dice In maniera Molto chiara Genoflette Il sacerdote Prende l'ostia E tenendola Alquanto Sollevata Sulla patena Rivolto al popolo Dice Ad alta voce Agnello di Dio Perché Perché Fondamentalmente Noi riceviamo Anche la santa comunione In quell'ostia Consacrata Il corpo di Cristo Che noi Riceviamo Ma È quella Unione Che noi Quella Quel ponte Che Si era creato Fra Lo spezzare Il pane Dell'agnello di Dio Di priva E il presentarci L'agnello Perché arriva il momento Della Della comunione Quell'atto penitenziale Che noi abbiamo fatto All'inizio della messa Nel quale Ci siamo sentiti Un po' indegni Di partecipare A essere A presenza del Signore Diventa In questo momento Un ripresentare Di nuovo La nostra indegnità Ma sappiamo benissimo Che il Signore guarda L'intenzione Del nostro cuore Come ha guardato Il ladrone pentito Che cosa ha fatto Lo ha portato Direttamente In paradiso Oggi stesso Sarai con me Scusate In paradiso Rialzo la pagnotta Che è caduta Bene Arrivati a questo punto Tutti i fedeli Hanno la possibilità Di comunicarsi Quindi Di accostarsi Alla Santa Comunione Dopodiché Il sacerdote Dopo aver Distribuito La comunione A tutti Torna dietro L'altare Lascia Lascia Gesù Che è Nella pistida In questo contenitore Lascia tutte le ostie Di dentro La lascia Al centro Dell'altare Mentre purifica Cioè pulisce I vasi sacri Quindi la patenia Nel calice Usa l'acqua Per la purificazione Eccetera Eccetera E lascia Lì Gesù Fa la sua Genuflissione E se ne torna Alla sede Perché non ripone Gesù Nel tabernacolo Perché Dopo Un momento Di ringraziamento E questo è importante Perché fare Un momento Di preghiera Silenziosa La comunione Significa Ha ricevuto Gesù Dentro di noi Quindi pertanto Siamo chiamati A stare con Gesù A parlare con Gesù A pregare il Signore A stare con Lui Quindi Se è tornato Il prete Alla sede Tutti i fedeli O in ginocchio Sono seduti Fanno la loro preghiera Il ringraziamento Eccetera Eccetera A un certo punto Il prete cosa dice Preghiamo E tutti quanti Cosa fanno Si alzano Perché L'atteggiamento Di colui che prega E l'atteggiamento Di colui che prega E quello Dello stare In piedi Ok Quindi Tutti quanti Si alzano Il sacerdote Recita Un'orazione Postcomunio L'orazione Dopo La comunione E cosa fa poi Il sacerdote Non dà la benedizione Finale Come solitamente Si fa Ad ogni messa Ma ricordiamoci Che sull'altare C'era Gesù C'era C'era Quella Pissile Dove C'erano Le ostie E Questa Pissile È stata Coperta Col coperchio È stata Chiusa Col coperchio Cosa succede Che il sacerdote Va Dinanzi All'altare All'altare Genuflette Incensa Gesù Che è dentro Questa Pissile Preso il velo Merale Che è un telo Rettangolare Cosa fa Prende Questa Pissile E come a dire Tanto è santo Il signore Che le mie mani Non sono Ecco Per non prenderle Con le mie mani nude Utilizzo Questo 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 oggetto Liturgico Che è appunto Il velo Merale Prendo la Pissile E la porto Verso l'altare Della Reposizione Cioè Accompagnato Dal Turibon L'incenso Dalla croce Dai candeglieri Che mi stanno Vicino Che stanno Indicare La presenza Di Gesù Che io Prete Porto Così In questo velo Merale Tra questo velo Merale Io vado All'altare Della Reposizione Che cose L'altare Della Reposizione Lo dice La parola Stessa E un Un luogo Di Reposizione Del Santissimo Sacramento Ripeto Siccome Giovedì Santo Noi Facciamo Memoria Dell'istituzione Dell'Eucarestia Allora Noi Portiamo Gesù In un altro Luogo Che è appunto L'altare Della Reposizione Per poter Adorare Gesù Eucaristia Non viene Chiamato Sepolcro Cioè Anticamente Fondamentalmente Era Chiamato Il sepolcro La famosa Visita Ai sette Sepolcri Ma se Vi ricordate Gesù Quando era Nell'orto Degli Uriveni Gezzemani Che cosa Ha detto Ai discepoli Non siete Stati In grado Di vegliare Un'ora Soltanto Ecco Che esce fuori Quella Che è la famosa Ora Di adorazione Allora Ecco perché Nella notte Del giovedì Santo Ognuno Ogni fedele È chiamato A stare Con Gesù Un'ora A fare Quell'ora Di adorazione Perché Come i discepoli Non sono stati In grado Di vegliare Lì un'ora Soltanto Ecco Noi vogliamo Vegliare Stare con il Signore Adorarlo E l'adorazione Ecco Avvicinarci Come Avvicinare La nostra bocca Adorare Mettersi Potremmo dire Quando due fidanzati Si mettono Naso Naso Contro naso Non si toccano Proprio le labbra Perché per baciarsi Bisogna un po' Girarsi Se non altrimenti Non ce se la fa Cioè Che ha dopo Una patacca Del naso Figuriamoci pure No Ma naso Naso contro naso E come se la bocca E' proprio vicino All'altro L'adorazione E' proprio questo Stare proprio vicino 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 E quindi Sentire Un po' Bruttante Tutta la fiatella Tutto il Il calore Che esce No E quindi Tutto l'amore Non so se sono riuscito A farvi capire bene Che cos'è Fondamentalmente L'adorazione Allora Il sacerdote Porta Questa Pisside In un altare Della reposizione Che ha Un contenitore In più Che sarebbe Una specie Di tabernacolo Mobile Quindi La pisside Non può stare All'aperto Cioè nel senso Che io non è che Metto un rialzo E sopra Ci metto Questo contenitore Dove ci sono Tutte le ostie O Come ho visto In qualche chiesa Di questo mondo Mamma A casa Teneva Un contenitore Per mettere I confetti Era un contenitore Di vetro Non so se voi Ce l'avete presente Lo avete Era fatto Con un coperchio E quindi Era bello Perché c'erano Tutti i confetti Io me li mangiavo Quando potevo Mangiarmi Adesso sono allergico Alla frutta secca a guscio Quindi Mandorle Non ne posso mangiare E quindi niente Ma Ho visto In qualche altare Della riposizione Questa Pisside In vetro Dove ci sono Tutte le ostie Così Gesù Si può vedere meglio Macello E come se noi Abbiamo Bisogno di fare cose Un pochettino Wow Così Fuori norma Perché è bello E più E più incisivo Non è questo Allora Il Santissimo Va riposto Nel tabernacolo Nella sua custodia E Noi Non riponiamo Gesù La liturgia Prevede che Se non c'è possibilità Di fare un altare Della riposizione Si riconservi Nel tabernacolo Benissimo In effetti Noi Quest'anno Non potremo Fare altare Della riposizione Non c'è concorso Di popolo Per l'adorazione Notturna Eccetera Eccetera Quindi finita la messa Gesù lo riporremmo Lo rimetteremo Nel tabernacolo Fondamentalmente Però L'altare Della riposizione Nasce appunto Come adorazione Adorazione continua Di Gesù Eucaristia Ecco perché Il prete Quando va all'altare Della riposizione Con un canto Eucaristico Che richiama Appunto L'Eucaristia Pone Gesù Nel tabernacolo E sta con la porticina Aperta E si canta Il tantum ergo Tantum ergo Sacramentum Cioè È un canto Adesso Lunga Spiegare Già Ho sforato il tempo Sul polo Le dieci passate Comunque È sempre un canto Di adorazione Anche in latino Potete andare a cercare Le parole Adoriamo il sacramento Che Dio Padre Ci donò Eccetera Eccetera Riconosciamo Fondamentalmente Che quell'ostia È vero Gesù È Gesù vivo È vero E Fatto questo Il sacerdote Incensa Durante il canto Del tantum ergo C'è un attimo Di silenzio Si chiude Il tabernacolo A chiave Perché Gesù Deve essere anche Custodito In maniera Sicura In maniera Senza che qualcuno Possa Saltare Anche Tutti i cordoni Che possono esserci In qualche scatto E quindi Poter fare Sacrilegio Sull'eucaristia Quindi Poter Aprire l'apisside Prendere un'ostia Così Sacrilegio Profanazione Anche Di quello Che è la cosa Più sante Che noi abbiamo Cristo Eucaristia E Gesù Eucaristia E pertanto Allora si chiude E l'assemblea Si scioglie Ecco perché Tutta la Concentrazione È rivolta Verso l'altare Della reposizione Arrivato a questo Punto Si toglie L'acqua santa Dalle acque Santiere Si sfoglia L'altare Si tolgono Le tovagli I fiori Tutto Perché Il punto Focale Adesso diventa Gesù Gesù Eucaristia Stiamo vicini A Gesù È Gesù Che entra Nel Gezzemani È Gesù Che vive L'ora Della Passione Che vive E comincia A sudare Sangue Sente Fortemente Quello che è Arrivata La sua Ora Di donare Tutto se stesso Al padre Per la redenzione Dell'umanità E allora Per non fare Come hanno fatto I discepoli Che si sono Addormentati Noi viviamo Un'ora E stiamo Un'ora In compagnia Del Signore Non siete stati In grado Di vegliare Un'ora soltanto Invece Dopo Il fedele Rimane lì Nell'adorazione Al Santissimo Fatto questo Ecco Si conclude Così La liturgia Del Gevidi Santo Il sacerdote Rientra In sacrestia Si toglie I paramenti E così Si entra In quel Momento Di adorazione Del Santissimo Che è presente Nell'altare Della reposizione Che Avrà sicuramente Una luce vicino Accesa Che indica La presenza Del Signore Ci sono Tanti fiori Che adornano L'altare Della reposizione E questa Adorazione È chiamata Si è invitata Anche a farla Comunitariamente Dove è possibile Passata La mezzanotte Ecco L'altare Della reposizione Abbia Un tono Più dimesso Cioè Si tolga Un po' Il senso Della solennità Faccio L'esempio Emblematico Sono Di fiori 10 Composizioni Di fiori Se ne lascia Una Due Per dire Quindi si toglie Quella solennità Non perché Gesù non è più importante Ma entriamo Già Nel grande giorno Del venerdì santo Quel giorno Quella liturgia Così austera Bellissima Del venerdì santo Che io comunque Affronterò Domani sera Alle ore 21 Sempre In diretta Facebook Allora bene Io vi ringrazio Per il vostro Per la vostra Attenzione Adesso Se qualcuno Volesse fare Delle domande Ecco Io adesso Vi do il tempo Per poter Poterle Formulare Poterle scrivere In modo tale Che se io riesco A leggere così Posso anche rispondere A alcune vostre domande E poi dopo Concluiamo Con una piccola Preghiera Sull'Eucaristia Scritta Da San Giovanni Paolo II Avete il tempo Per le vostre domande In questo vale Noi riceviamo Il vero corpo Del Salvatore Che si fa cibo Per tutti noi Con questo pane Con questo vino Gesù Signore Rimora in mezzo a noi Vedo una domanda Da parte di Antonio Ciao Antonio Carissimo Allora Visto che Per le circostanze Che ci sono Ovviamente Come si Ci si può Accostarci Alla comunione Ecco Facendo la comunione Spirituale Purtroppo Si è impossibilitati Nel ricevere Il corpo di Cristo È vero Non si può Partecipare Alla Santa Messa E pertanto Non si può Ricevere la comunione Però su internet Si trovano anche Delle preghiere Te ne potrei mandare Anch'io una Casomai Sul tuo profilo Di comunione spirituale Da recitare Nel momento in cui Io Partecipando A Messa Dalla televisione Il sacerdote Si sta comunicando Sta facendo lui La comunione Io In possibilità Per riceverla Sacramentalmente In maniera concreta La posso fare Recitando Quella preghiera Che poi Ti potrò Inviare Senza problemi E quindi Vivere anche così Una comunione Spirituale Prego Se avete altre domande Potete ancora Scrivere E farle Con questa Benza Noi Celebriamo Il Sacrificio Del Redentore Che ci Consagra Nel suo Amore Con questo Padre Con questo Più Si allora Ciao Teresa Ben Vista Ben Come si dice Ben Vista In dieta Non so Com'è Sia il linguaggio Quelli dei social Allora La invierò A tutti Come faccio La cosa più semplice Ve la metto Sulla mia pagina Don Mauro Pallini Facebook Va bene Così La potete anche Scaricare La potete prendere Tutti Da lì Se volete Permettetemi di salutare Mia sorella Ciao Sorellina Saluta Mio cognato Remo Mie due nipoti Stefano Lorenzo Un abbraccio Coloroso A voi Dimora in mezzo a noi Che la salvezza Offerta ad ogni uomo Con questo pane Con questo vino Gesù Signore Dimora in mezzo a noi De la salvezza Offerta ad ogni uomo Grazie a voi Voi siete stati molto gentili Nel passare un po' di tempo Il vostro tempo Ecco Mi fa piacere Poter essere Un po' di aiuto Tenermi un po' di compagnia Spiegare quello che Riesco Con semplicità Ecco Saluterei Tutto ad uno ad uno Però Qua I messaggi Vanno Avanti Li perdo pure Un po' Ecco Qualcuno Mi diceva Anche oggi Ho ricevuto Parecchie chiamate Per quanto riguarda La benedizione Delle palme È Un argomento Un po' particolare Allora Fondamentalmente Le palme Ecco Vengono Benedette Nel giorno Della domenica Delle palme E sono Benedette In Virtù Della Della processione Che poi si compie Per la commemorazione Di Gesù Che entra A Gerusalemme Quindi Non essendoci stata La possibilità Della commemorazione Del Signore Perché non c'era Concorso di popolo Ecco Ci è stato detto Come prevede ovviamente Il messale Nella terza formula Di non benedire le palme Concretamente Allora Il Papa Lo ha fatto Così come i vestiti Escove nelle cattedrali Lo hanno fatto Appunto per Almeno Loro Far rimanere Questo segno Compiere Questo segno All'interno Di ogni chiesa Diocesana Fondamentalmente Però Capite molto bene Che tutte le messe Che voi avete potuto A cui avete potuto Partecipare I presbiteri Non hanno Benedetto le palme Quindi pertanto Non ci sono Palme Benedette Per Per quest'anno Appunto Per questo motivo Poi C'è forse Lo zero Di qualche Presbitero Che le ha volute Benedire Ma Fondamentalmente È qualcosa Di improprio Che Non è stato Non c'è stato Detto di farlo Perché fondamentalmente Le cose si fanno Con un criterio E c'è una spiegazione Ciao Francesco L'acqua si mette Nel vino Sì Perché dal costato Di Cristo Sono sgorgati Sangue Ed acqua Simbolo Dei sacramenti Della chiesa Ecco pertanto Va una goccettina Di acqua All'interno Del calice Va bene Benissimo Allora Ci Ci Salutiamo Adesso facciamo La preghiera Tutti quanti Sì Seguite La preghiera Che adesso recito Anche al nome vostro Si unisce il vostro cuore Al mio Perché si è un cuore All'unisono Che preghi Il Signore Questa preghiera Che ha composto Giovanni Paolo II Che proprio Parla E Tratteggia L'importanza Dell'eucaristia All'interno Della nostra vita Io Ci provo Ad alzarmi in piedi Ma forse Sarò Tagliato Perché L'atteggiamento Dell'orante Di colui Che si alza In piedi Bene Come ipotizzavo Ecco Aspetta che mi aggiusto Allora Ecco Forse così Mi riuscite A vedere Tutti Ok Nel nome del Padre E del Figlio E dello Spirito Santo Mane nobis Condomine Come i due discepoli Del Vangelo Ti imploriamo Signore Gesù Rimani con noi Tu divino Viandante Esperto Delle nostre strade E coruscitore Del nostro cuore Non lasciarci Prigionieri Delle ombre Della sera Sostienici Nella stanchezza Perdona I nostri peccati Orienta I nostri passi Sulla via del bene Benedici I bambini I giovani Gli anziani Le famiglie In particolare I malati Benedici I sacerdoti E le persone Consagrate Benedici Tutta l'umanità Nell'Eucarestia Ti sei fatto Farmaco Di immortalità Dacci il gusto Della vita piena Che ci faccia Camminare Su questa terra Come pellegrini Fiduciosi E gioiosi Guardando sempre Al traguardo Della vita Che non ha fine Rimani con noi Signore Rimani con noi Amen Nome del padre E del figlio E dello spirito santo Ecco Allora Augurandovi una santa notte E un buon riposo Ci diamo appuntamento A domani Il nostro appuntamento Alle ore 21 Dove Vi spiegherò Cercherò di spiegare Ecco La liturgia Del venerdì santo Un abbraccio a tutti E buon riposo La forza e santitudine Ci sostieni nel cammino Ti adoriamo in verità O Signore Non siamo fermi Di venire alla tua pensione Di soltanto una parola La salvezza ci da dai Pane se è disceso a noi dal cielo Pane che ha in sé ogni dolcezza 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 Pane Pane che ha in sé ogni dolcezza 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 Grazie a tutti.